ben trovati in questo video approfondiremo lo studio del long strangle siamo sempre nell'ambito delle strategie a debito ovvero nel caso in cui siamo sempre prevalentemente compratori di opzioni e in cui la posizione di portafoglio vede un premio pagato superiore al premio incassato la strategia semplice del long strangle è composta dall'acquisto di call e dall'acquisto di put ugualmente come per lo straddle però a differenza di quest'ultimo che è fatto e montato su strike uguali nel caso dello strangle gli strike in acquisto sono distanti dal prezzo del sottostante come sempre concentriamoci sulla linea scura del payoff a scadenza in questo esempio abbiamo simulato con prezzo sottostante a 1000 l'acquisto contemporaneo di una put a strike 960 che ci è costata 25 euro e di una call 1040 che ci è costata 22 euro si tratta come vedete di due strike out of the money ovvero otm perché si trovano lontani dal prezzo del sottostante quindi il costo totale nella nostra struttura o strategia è di 47 euro se vi ricordate 47 euro sono quasi la metà dei punti che servono per aprire uno straddle che ne costava quando l'abbiamo aperto 80 infatti rispetto al long straddle abbiamo risparmiato molto ma chiaramente questo risparmio si traduce nella necessità che il sottostante si muova con maggiore ampiezza per far uscire da break even ovvero dai punti di pareggio questa figura i break even facendo un rapido calcolo si trovano rispettivamente a 1087 punti al rialzo cioè 1040 che lo strike comprato più 47 che è la nostra spesa di acquisto delle opzioni e a 913 ovvero 960 che lo strike di punto comprato meno 47 che è il premio pagato oltre si guadagna teoricamente sul lato rialzista fino all'infinito e sul lato ribassista fino all'azzeramento del sottostante perché si utilizza questa strategia ovviamente perché ci aspettiamo la possibilità di un rapido e direzionale movimento dei prezzi quello che conta è che il mercato si muova rapidamente ed in modo profondo non è importante anche in questo caso la direzione adesso concentriamoci sulla curva arancione della trao e scopriamo che anche questa è una strategia molto sensibile al decadimento temporale al time decay o valore temporale il vero ed unico rischio che corriamo è quello di perdere il premio complessivamente pagato per acquistare queste opzioni e questo questo rischio è provocato dall'insufficiente movimento del mercato che non riesce a compensare il decadimento temporale delle opzioni quindi i vantaggi consistono in un rischio limitato che è associato ad un basso costo iniziale e ha possibilità di profitto teoricamente alte importanti i problemi però arrivano se con il passare del tempo e dei giorni non si verifica l'evento atteso ovvero il forte movimento direzionale e quindi è probabile perdere una parte se non tutto il premio pagato per l'entrata a mercato ricapitoliamo e confermiamo il concetto che a differenza del long straddle a fronte di un minore sborso economico gli strike o i punti di pareggio sono leggermente più lontani per semplificare possiamo dire che paghiamo meno ma abbiamo minori probabilità statistiche questo perché in borsa tutto a un costo e niente viene dato gratis facciamo comunque un passo un passettino in avanti è possibile anche in questo caso abbassare parte del premio pagato che rappresenta ovviamente il nostro costo possiamo appunto mettere sul piatto meno soldi e giocare comunque in entrambe le direzioni perché come sappiamo a meno a meno di eventi estremi è improbabile che il sottostante arrivi a zero o a 2000 punti al rialzo passiamo alla prossima slide dove facciamo un esempio e vediamo che possiamo vendere anche sullo strangle opzioni a strike ancora più distanti ancora più otm creando una figura che a fronte di un minor costo non permette più guadagni limitati ma ha come massimo target lo strike price delle opzioni vendute ecco come si può quindi modificare sensibilmente il profilo di rischio anche del long strangle semplicemente vendendo pari quantità di call a strike superiori e put a strike inferiori ancora più out of the money di quelli che abbiamo acquistato in questo esempio abbiamo comprato opzioni call a strike 1040 e opzioni put a strike 960 abbiamo pagato tutto 47 euro quindi per diminuire il costo della posizione e di conseguenza il rischio abbiamo provato a vendere contemporaneamente opzioni call a strike 1100 e put a strike 900 questa vendita ci ha permesso di incassare un premio di 21 euro riuscendo in questo modo ad abbassare in modo consistente quello che il costo del long strangle da 47 euro passa a 26 euro quasi la metà in questo modo però abbiamo limitato potenzialmente il guadagno il termine tecnico che raffigura questa figura è il reverse condor a fronte di un minor costo si riesce ad avvicinare i punti di pareggio della strategia passando da 1087 a 1066 e da 913 a 934 fondamentalmente io lo trovo un gran bel vantaggio però il rovescio della medaglia è che se prima potevamo illuderci di avere un ipotetico guadagno illimitato adesso abbiamo un take profit che è il tetto di guadagno massimo che è pari allo strike che abbiamo venduto meno il premio che abbiamo pagato cioè 34 punti o 34 euro grazie a tutti ai prossimi video